La serie 6C è proposta anche con la super confortevole e produttiva trasmissione a variazione continua TTV che permette di selezionare la velocità di avanzamento dedicata in un range compreso tra 20 metri ora e 50 km orari questi ultimi raggiunti a soli 1910 giri motore accanto ad una trasmissione meccanica a due stadi vi è un'unità idrostatica la cui forza può sommarsi o andare in contrapposizione a quella meccanica quando la forza idrostatica e quella meccanica si annullano abbiamo l'effetto power zero per il quale il trattore rimane perfettamente immobile anche in pendenza proprio per il gioco delle forze con la trasmissione TTV il software permette tre modalità di guida nella prima denominata auto si utilizza l'acceleratore per controllare la velocità di avanzamento del trattore mentre con il joystick si imposta la velocità massima in base al carico e alla posizione del potenziometro eco power la centralina adatta i giri motore nella modalità PTO che si autoattiva nel momento in cui si innesta la presa di forza si utilizza l'acceleratore a mano per impostare i giri del codolo PTO mentre con il pedale acceleratore o con i cruise control si imposta la velocità di avanzamento questo permette di separare la velocità di avanzamento da quella della presa di forza in modalità manuale con il pedale acceleratore si impostano i giri motore mentre con il joystick MAXCOM si gestisce la velocità di avanzamento sia nell'RV Shift che nel TTV è possibile utilizzare il cruise control per arrivare rapidamente alla velocità di lavoro desiderata semplicemente premendo il pulsante dedicato o muovendo di lato il joystick nell'RV Shift Grazie 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 Grazie.